L'animo creativo del volley italiano, il sorriso della sua Milano e dopo l'ennesimo infortunio, lo stare a casa nel rispetto delle regole, Matteo Piano si prepara alla nuova stagione. Duro lavoro, voglia di trovare risultati con la sua pavero volley Milano e poi la nazionale, fino a Tokyo. Si riparte dal luogo simbolo di Milano, piazza Duomo, deserta oggi con la gente. Come riparte questa città? Milano riparte un po' a mattonelle, quindi ogni mattonella si unirà formando quel grande mosaico che è questa città, che ha tanto e quindi io mi augo che in autunno e in inverno si torna ad avere la grande Milano che è città italiana. Infortuni, stoppe a casa, adesso la voglia da capitano di far rinascere l'allianza pavero volley Milano. Si, ho la voglia di tornare in campo perché quest'anno l'ultima stagione non sono tornato con questa squadra, con tanti compagni con cui desideravo giocare. Ritorno con molta voglia, anche se sono stato in palestra tanto e spero sia una Milano che andrà a togliersi delle soddisfazioni. Un anno importante quando si rinizierà, un anno importante perché porterà a Tokyo. 2021 tu arrivi da quell'argento di Rio 2016. Sì, si va a Tokyo 2021 e anziché 2020 sono contento di poter sognare e allenarmi per questo progetto e sperare di arrivarci al meglio della forma. Grazie. 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 Grazie.